Assolutamente d'accordo sulla definizione calendario per la vita perché dalle 23 righe che erano dedicate alla vaccinazione dell'adulto e dell'anziano nel piano nazionale del 2000, quindi di inizio di questo secolo, oggi sicuramente abbiamo invece sul piano nazionale del 2017-2019 indicazioni molto specifiche non solo per le vaccinazioni dell'infanzia e dell'età pediatrica ma anche proprio su tutto l'arco della vita. Sostanzialmente oltre a quelle che storicamente erano definite le vaccinazioni dell'adulto considerati come richiami, penso ad esempio al richiamo per la vaccinazione antitetanica che va fatto ogni 10 anni, il mondo della ricerca ci ha messo a disposizione vaccini sempre più indicati per l'età adulta e sempre più indirizzati a prevenire patologie e in particolare mi riferisco a quello che noi inizialmente definivamo un trissi infernale perché parlando dell'adulto ma soprattutto dell'anziano, oltre alla storica vaccinazione anti-influenzale avevamo anche patologie oltre all'influenza, patologie come pneumococco e lo zoster che sicuramente costituiscono una triade che veramente ha un peso notevole nel provocare malattie nel soggetto anziano e nel soggetto se vogliamo anche adulto. Oggi questo trissi infernale lo possiamo coniugare nel trissi della salute perché abbiamo a disposizione tre vaccini specifici, efficaci, sicuri, ben tollerati per prevenire queste malattie. Quindi a quello storicamente, dicevo così prima, anti-influenzale si affiancano oggi il vaccino anti-pneumococcio che è il vaccino anti-herpes zoster.